Ciao, oggi parliamo di cornici e ne parliamo in due modi. Prima andremo a vedere ciò che Canva ti offre di già pronto e come queste cornici offerte da Canva possono essere utilizzate. Poi però vedremo anche un modo per inventare delle cornici con delle forme che più ci piacciono. Allora cominciamo col creare un nuovo progetto come al solito. Ti ricordo che io scelgo presentazione ma va bene qualsiasi cosa. Se io scrivo nella casella di ricerca degli elementi cornici, ecco quello che accade. Mi si apre nella colonna di sinistra un elenco lunghissimo di forme che possono essere utilizzate come cornici. Le guardiamo dopo. Ci sono altre possibilità qui. Vediamo cosa succede con Grafiche. Grafiche ti dà la possibilità di applicare una cornice ad un'immagine. Allora per prima cosa applichiamo di solito filtro. Poi andiamo a prendere una foto assolutamente a caso. Perché adesso, ecco qua, prendiamo Napoleone. Ecco. E proviamo a vedere cosa succede se io scelgo una di queste cornici e la sovrappongo all'immagine. Partiamo dal semplice. Io potrei anche prendere una cornice semplicissima di questo tipo. Però guarda quello che succede. Io tento di sistemarla ma in realtà posso solo aumentare la dimensione ma non posso cambiare la forma. Potrei provare allora a metterla un attimo dietro e lavorare sulla mia immagine aumentando l'immagine. Però vedi che più di così non posso. Allora la prima cosa che io ho imparato utilizzando queste cornici è che io posso sovrapporre una cornice. Aspetta, cambiamo il colore così si vede meglio. Come vedi la puoi trattare come qualsiasi altro elemento, quindi cambiando il colore. Però devo adattare l'immagine, sono io che devo adattare l'immagine alla cornice. Facciamo un altro esempio. Se addirittura io volessi utilizzare qualcosa di circolare non riesco perché in questo caso non riesco ad adattare l'immagine tagliando il profilo. Quindi cosa significa questo? Significa che nella sezione grafiche io trovo comunque delle cornici interessanti che potrebbero servirmi ad esempio per abbellire un testo. Se io scegliessi questa, qui significa ben poco, però io qua potrei poi inserire un testo ovviamente ormai ha imparato. E questo potrebbe essere un uso di queste cornici grafiche. Quindi appoggiare queste cornici che solitamente non hanno uno sfondo per abbellire un elemento che io che io già posso anche utilizzare una cosa di questo genere. Lo metto ovviamente indietro, indietro a tutto ed ecco che ho questa questa grafica. Quindi posso anche combinare insieme questi elementi e ce ne sono veramente tantissimi. Ce ne sono anche di dinamici. Ecco qua. Abbiamo sempre il problema della cornice però io posso a questo punto tagliare un pezzettino di Napoleone e inserirlo all'interno della cornice. Dipende al solito poi dall'uso che devo fare della mia presentazione. Ti invito comunque a sfogliare questo questo elenco lunghissimo dove si possono trovare veramente delle cose interessanti. Ad esempio questa cornice all'interno della quale io potrei mettere sia un'immagine che un testo a bolla di sapone. Insomma è così andare. Ce ne sono veramente veramente tantissime. Quindi questo è un modo per utilizzare delle cornici. Un altro modo è quello dopo aver inserito un'immagine di cliccare su modifica immagine e poi scegliere cornici. Il vantaggio è che rispetto a quello che abbiamo visto prima l'immagine della cornice che vado a scegliere in questo elenco si adatta alla fotografia. Se io scelgo questa del telefono e clicco ecco vedi che la cornice prende perfettamente l'immagine all'interno. Questo vale per qualsiasi forma. Attenzione però perché non tutte le forme vanno bene nel senso che se io volessi inserire questa immagine all'interno di un cerchio è vero che l'immagine si adatta però si adatta e mi taglia fuori la testa. Quindi devo cercare delle immagini e delle cornici che siano adatte a quello che io voglio far vedere. Se ad esempio io vado a recuperare la foto di Napoleone di prima ok e poi inserisco questa immagine all'interno del cerchio in questo caso potrebbe andare bene perché la dimensione dell'immagine sotto si sposa bene con il cerchio. Quindi che cosa abbiamo visto? Abbiamo visto già due modi di inserire nella cornice le nostre immagini. Un altro modo ancora è quello di scegliere foto e di andare a vedere l'elenco di cornici che ci vengono date. Attenzione però perché? Perché queste sono delle foto quindi queste sicuramente non solo non si adattano ma noi non possiamo inserire l'immagine all'interno. È la cornice che viene posizionata all'esterno. Diciamo che vogliamo scegliere questa. Allora io la prendo e come vedi certo posso ingrandirla ok meglio se vado a rimpicciolire un po' l'immagine sotto però ecco io sto facendo un lavoro di sovrapposizione. Dopodiché in questo caso mi può andare bene perché la cornice si adatta al contenuto. Però ecco in questo caso io sto proprio trovando delle fotografie di cornici quindi quello che posso fare è sovrapporre una cornice all'immagine oppure creare uno sfondo per così dire che mi faccia da cornice. In che modo? Ad esempio andando a prendere uno di questi benissimo io adesso decido che in questo lo metto indietro questa la posso tagliare di qui e di qui e posso creare una sorta di sfondo di cornice infilandola dietro la mia immagine. Però ecco in questo caso io sto sempre lavorando su degli elementi utilizzando tutto quello che ho imparato sulla posizione degli oggetti nella mia pagina. Aggiungiamo un'altra pagina e invece andiamo a vedere la voce tutto. Per prima cosa ti ricordo che abbiamo imparato che quando vediamo questo disegno di paesaggio all'interno di una forma significa che all'interno di questa forma io posso inserire un'immagine quindi non è più come prima ma io inserisco l'immagine. Allora vediamo la differenza. Prendo una forma a caso questa un po' così si vede meglio. Vado a prendere le mie foto su cui stavo lavorando prima e se io trascino la foto tenendo cliccato il tasto sinistro del mouse vedi cosa succede. Non viene sovrapposta ma viene inserita. Io lascio andare il tastino ed ecco che la foto è perfettamente inserita all'interno. Foto ma posso farlo anche con un video e non cambia assolutamente nulla. La stessa cosa la posso fare anche con una forma strana. Se tu scendi nell'elenco ti accorgerai che ci sono anche delle forme meno lineari oltre ad esserci numeri e numeri e lettere. Allora io potrei scegliere questa. La mettiamo qui. Vado a prendere sempre la mia regina Elisabetta e ecco fatto. La trascino. Anche in questo caso io posso notare che va via un pezzetto della testa ma qui cliccando due volte sull'immagine posso poi posizionarla ed ecco che io ho inserito l'immagine nella cornice perfettamente adattata alla cornice e poi posso utilizzare tutto questo a seconda di quello che mi serve. Quindi quello che abbiamo imparato fino adesso è che all'interno della scelta di cornice io posso trovare veramente di tutto di più un sacco di cose che si prestano a inserire perché c'è l'immagine di questo paesaggio disegnato fotografie oppure video che si adatteranno perfettamente alla forma. Facciamo un altro esempio con qualcosa di ancora più complicato ecco ad esempio se io scelgo questa S questo lo cancelliamo mettiamo la S qui vado a prendere la solita foto di Napoleone e facendo l'operazione che abbiamo fatto prima ovviamente in questo caso non significa nulla ma questo è solo per dimostrarti che le cornici che tu trovi qui qualsiasi forma abbiano fanno in modo che l'immagine si adatti perfettamente. Un altro trucchetto aggiungiamo una pagina vado in elementi e cerco finestra ovviamente e applico il solito filtro. Cosa posso fare per utilizzare le cornici e dare l'impressione che io sto guardando fuori da questa finestra? Semplicissimo torno su cornici prendo una cornice che abbia la forma questa qua della finestra la adatto alla dimensione della finestra. Posso anche ingrandirla un po' se la cornice esce un pochino dal contorno della finestra non mi devo preoccupare perché tanto poi sarà posizionata dietro e comunque non si vedrà poi vado a scegliere ciò che voglio che si veda da questa finestra. Ad esempio un cielo stellato e lo voglio addirittura in movimento allora lo riduco un po' per comodità poi lo trascino e lo inserisco ecco qua nella cornice poi gli dirò posizione indietro ovviamente inserisco la mia finestra in uno sfondo come se fosse proprio aperta all'interno di un muro e vediamo qual è l'effetto finale guarda che bello sembra proprio di essere affacciati a una finestra che dà sul cielo stellato quindi questo è un altro sistema per utilizzare le cornici inserirle all'interno di un oggetto e poi applicare nella cornice ciò che vogliamo che si veda nel prossimo tutorial ti farò vedere altri trucchetti ti aspetto buon lavoro